L'IVA non aumenterà, meno tasse sul lavoro e un robusto pacchetto per la famiglia. Ad assicurarlo è il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al termine della direzione del PD sulla manovra. Ancora lavorando sugli ultimi dettagli ma ormai il quadro di fondo è definito. Era difficile ma ci siamo riusciti, l'IVA non aumenterà, avremo meno tasse sul lavoro e quindi più soldi in busta paga, più soldi per gli investimenti a partire di quelli green e un robusto pacchetto per la famiglia. Quindi è una manovra importante per il futuro del paese.